Tradizionale conferenza di fine anno in cui il governatore Frattura traccia il bilancio dei primi dieci mesi di governo, un 2013 che si chiude con un risparmio complessivo di 11 milioni di euro ed un 2014 che punterà sul rilancio occupazionale. Proseguono le verifiche dopo la scossa di terremoto di domenica scorsa e il successivo sciame sismico che ha fatto tremare Campania e Molise. Un sopralluogo è stato necessario anche nell'edificio dell'assessorato alle politiche sociali il cui quinto piano ha riportato lievi danni. Numerose le tappe e le soste promosse per l'importante evento così come tantissime le persone che hanno deciso di aderire all'invito dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Brigantini. In casa giallorossa si cerca ancora un difensore centrale di livello che possa rafforzare la retroguardia adriatica. Anche l'Isernia si muove sul mercato sia in entrata che in uscita. Eccellenza per il Campobasso il 2013 è stato l'anno della rinascita dopo i dissesti economici. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale 31 dicembre 2013. Tempo di bilanci per i cittadini molisani alle prese con una crisi senza precedenti. Intanto proprio in futuro dovranno essere gli stesi i cittadini a riappropriarsi di una regione che può dare ancora tanto. Sentiamo l'editoriale di Molise TV. Anche il 2013 ci sta per lasciare. Un anno sicuramente che non passerà nel dimenticatoio per molti, anzi per moltissimi italiani e ancora di più per noi molisani alle prese con problematiche di vario genere che non hanno consentito di guardare con prospettiva al futuro. Da un punto di vista politico sicuramente come non ricordare il passaggio al vertice della regione molise dell'architetto campobassano Paolo Frattura che ha sostituito l'egemonia di Michele Iorio durata per ben 13 anni. Nuova giunta, nuovi volti, nuova macchina regionale, ma poche le soluzioni risolte causate dai tanti debiti regionali e poca voglia di imprenditori di fuori regione di calarsi in un Molise fuori dall'obiettivo 1 senza vie di collegamento da un punto di vista infrastrutturale e senza fondi europei che dovranno nel prossimo anno rilanciare l'intera economia molisana con i nuovi piani 2014-2020. Spesso si sono dovute affrontare emergenze, Solacrital, GAM, ITR, zuccherificio sotto il profilo industriale. Poi quelle di aziende nazionali che quasi tutte hanno dovuto ricercare la via della cassa integrazione per non far rimanere i propri dipendenti senza un centesimo. Per continuare le tante strutture regionali obsolete e poco produttive ma che hanno al suo interno risorse umane, padri di famiglia, anche monoreddito che non possono da un giorno all'altro trovarsi senza un posto di lavoro anche perché loro di colpe non ne hanno. Per non parlare di enti, consorsi, autorità di bacino, molise dati e tutte le società partecipate molto inutili che hanno solo arricchito pochi con consigli di amministrazione che beneficiano a volte anche di intennizi pari a 200.000 euro annui. Anche se in maniera differente ed in settori diversi, questo nuovo governo regionale ci ha approvato in alcune circostanze. Ci sono stati due imprenditori, uno siciliano e ci riferiamo al gruppo Leucata interessata alla filiera del pollo e l'altra quella al gruppo Granarolo per quel che riguarda le grammanze. Ebbene, anche noi della stampa ci abbiamo capito veramente poco. Il primo sembrava aver concluso la trattativa con la regione molise per sobbentrare alla gamma e soltanto al photo finish non ha siglato l'accordo. Nonostante la regione molise sia scesa a compromessi, alla fine nulla è stato fatto. Per la Granarolo è sceso in molise l'amministratore delegato ma come al solito, invece di affrontare il problema, si è vista tanta litigiosità perché ognuno non vuole nel proprio orticello che venga immessa un'azienda che possa dare lavoro solo perché si dice, abbiamo sentito, che le manze portano malattie. Se poi analizziamo il comparto della sanità allora scendiamo veramente a livelli bassissimi perché basta che si parla dell'ospedale di Termoli e scendono in piazza i termolesi, se si parla del Santissimo Rosario di Venafro e Venafrani e via via con tutti gli ospedali. Nessuno però analizza che cosa si vuole di un ospedale o di un altro. Spesso molti cercano solo di fare confusione e non perdere il trasferimento perché se io vivo a Campobasso non posso andare a lavorare a Termoli, ci mancherebbe che io debba fare 70 km al giorno per andare a lavorare. E così i pazienti ci passano i guai mentre le aziende e cittadini pagano le tasse più alte d'Italia. Oggi ottenere un posto di lavoro è diventato quasi impossibile ma le opportunità quando c'è crisi ci sono e come e forse bisognerebbe coglierle al volo e capire che forse l'unica cosa che non si dovrebbe perdere è la molisanità. Cioè noi molisani non dovremmo mai e poi mai lasciare ad altri posti, ruoli e soprattutto occuparci noi delle necessità del territorio. Le spese superfue vanno eliminate ed i politici devono fare di più supportando lavoratori che sanno e hanno situazioni estreme e non possono a 50 anni cambiare lavoro. E allora si spera che nel 2014 possa vedere noi molisani meno litigiosi e più propositivi. E per la prima volta da presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura ha augurato buon anno a tutti i cittadini molisani ringraziando quanti continuano ad impegnarsi duramente per assicurare un futuro al Molise. Sentiamo. A tutti voi, al nostro Molise auguri, a tutti i nostri cittadini, bambini, giovani, anziani, donne e uomini l'augurio di sentirsi orgogliosi di essere molisani. A chi da terre lontane ha deciso di vivere in Molise l'augurio di sentirsi a casa. Che il nuovo anno sia l'anno della consapevolezza ritrovata e delle cose migliori che tutti meritiamo. Possiamo farcela, l'abbiamo detto all'inizio di questa straordinaria esperienza e sono convinto, tutti insieme, ce la faremo. Nel compleanno dei 50 anni della nostra autonomia abbiamo condiviso il sogno del futuro ed è ciò che abbiamo davanti, il futuro in una costruzione che ci vedrà impegnati tutti insieme perché è importante il contributo di ciascuno. Il Molise ce la farà perché ci sono intelligenze, sentimenti, impegni e generosità a disposizione della nostra regione perché insieme siamo qui a sostenerci aiutandoci a crescere. In questi primi mesi di governo, in questo primo anno, ho conosciuto l'emozione della solidarietà. L'ho vista correre tra lavoratori e imprenditori, tra persone in difficoltà diverse per reddito e posizione. Ho conosciuto la capacità di comprendere e condividere le difficoltà che il sistema vive. Ho conosciuto la pazienza di chi è riuscito a guardare oltre, al cambiamento che stiamo mettendo in atto. Ho conosciuto la commozione che nasce di fronte alla rabbia che si trasforma in disponibilità in nome di un principio più alto, il bene comune, non solo il tuo ma pure quello di chi ti è accanto. Abbracci, sguardi, strette di mano, tutti impagabili. Penso e dico grazie a tutti gli attori della gamma, dello zuccherificio, della fondazione Giovanni Paolo II, delle sattorie, alle maestranze del Savoia, per citare solo alcuni dei protagonisti mediatici del 2013. Dico grazie ai piccoli, tanti lavoratori e aziende che hanno lottato e lottano in silenzio e che vanno avanti anche senza ribatta. Dico grazie a chi ha discusso con noi di progressi industriali, di progetti industriali, suggerendoci idee, condivisioni ma anche bocciature. Dico grazie ai tantissimi, tra medici, infermieri, pazienti e cittadini in salute che da Agnone, Benafro, Isernia, passando per Campobasso fino a Larino e Termoli hanno accettato di lavorare con noi per una sanità nuova, per garantire al Molise più cose, il pareggio dei conti, un'alta offerta di cure per i nostri malati e con la sanità, l'autonomia stessa della nostra regione. Dico grazie a chi ha compreso che parlare di difficoltà del momento non è un comodo slogan. Dico grazie a chi ha fiducia in noi e anche a chi non ce l'ha. Dico grazie alla fatica sociale. Le risposte non mancheranno affinché la fatica torni a essere più giustamente impegno sociale. Il Molise, con i molisani protagonisti della ripresa e l'augurio che vogliamo scambiarci oggi. Buon anno, buon 2014 a tutti. E dopo gli auguri rivolti a tutti i cittadini molisani, la tradizionale conferenza di fine anno in cui proprio il governatore Frattura ha voluto tracciare il bilancio dei primi dieci mesi di governo, un 2013 che si chiude con un risparmio complessivo di 11 milioni di euro e un 2014 che punterà sul rilancio occupazionale. Il Molise può farcela il commento di Frattura. Vediamo. Un Molise virtuoso e perfettamente in linea con la politica di austerity imposta dalla spending review. È quello che emerge dal bilancio di fine anno del governatore Frattura. Il 2013 infatti si chiude con una notevole sforbiciata ai costi della politica e della pubblica amministrazione. Ammonta circa 11 milioni di euro il risparmio complessivo, ma la situazione debitoria risulta ancora disastrosa. Non c'erano le difficoltà nei conti della regione, il presidente Frattura, ma guarda con fiducia al nuovo anno. Forte dei tagli messi in campo e di quelli in corso. Taglia le spese di rappresentanza e i costi per il materiale di consumo, per la connettività, per i fitti. Il tutto senza perdere di vista la qualità dei servizi. Innanzitutto un 2013 straordinario che ha visto la nostra proposta di governo essere premiata dai cittadini molisani ai quali va un grazie di cuore. Grazie soprattutto per la fiducia che ci avete accordato. Un 2013 difficile, un 2013 fatto di tante vertenze, un 2013 fatto di tanti sacrifici. Un 2013 però fatto di un impegno quotidiano e costante perché si potesse dare riscontro alle aspettative dei molisani, tutti. Il primo tema è stato quello di mettere mano all'organizzazione della macchina amministrativa regionale tagliando gli sprechi. Oggi ci presentiamo con circa per il 2014 11 milioni di euro di risparmi sulla gestione annuale della macchina amministrativa regionale. Abbiamo azzerato strutture che per noi non avevano motivo di esistere, le abbiamo commissariate alcune coinvolgendo dirigenti regionali a costo zero per la pubblica amministrazione. Abbiamo semplificato le governance passando da un milione e 600 mila euro di costi del 2012 a circa 500 mila euro per il 2014. Tra le priorità per il nuovo anno è il rilancio occupazionale. Le priorità sono soprattutto il lavoro. Io sono convinto che con le risorse della programmazione futura 2014-2020 e con una rinegoziazione per quanto riguarda la gestione dell'acqua con risorse che potranno significare ritorno allo sviluppo per questa regione, segnali positivi e opportunità le daremo ai molisani. Una conferenza a fiume, quella del governatore Frattura, che non ha trascurato nessun tema. Dall'editoria, con l'impegno entro il mese di febbraio di approvare la legge per il settore dell'informazione, alla sanità, dalla riorganizzazione regionale ai vitalizi all'articolo 7, con l'augurio per quest'ultimo che tutti i consiglieri restituiscano il maltolto. Tirando le somme, secondo il presidente Frattura, il Molise potrà farcela. E cambiamo decisamente argomento perché proseguono le verifiche. Dopo la scossa di terremoto di domenica scorsa, il successivo sciame sismico che ha fatto tremare Campania e Molise, un sopralluogo è stato necessario anche nell'edificio che ospita l'assessorato alle politiche sociali, il cui quinto piano ha riportato lievi danni. Sentiamo. Lo sciame sismico successivo alla scossa di domenica pomeriggio non ha attenuato la paura di quanti hanno scelto di non rientrare nelle proprie case e trascorrere la notte in auto. Resta dunque alta l'allerta. Intanto sono partite le verifiche e prosegue il monitoraggio del territorio per verificare se vi siano danni. La sala operativa di protezione civile ha già sentito i prefetti di Campobasso e Isernia e resta in stretto contatto con il comando regionale dei vigili del fuoco. Lievi danni sono stati riscontrati al quinto piano dell'assessorato regionale alle politiche e sociali dove si è reso necessario far effettuare controlli immediati ai vigili del fuoco e alla protezione civile per garantire serenità e sicurezza al personale. Dal primo riscontro sono stati esclusi problemi strutturali all'edificio. Resta aperta la questione della ricostruzione ancora da completare dopo le scosse degli ultimi giorni e fondamentale anche procedere ad un controllo delle messe in sicurezza e dei ponteggi realizzati nel 2002 e che stanno cedendo. Siamo pronti con il Ministero quindi ad affrontare una seconda tranche e cercare di riaprire anche i lavori che sono fermi. Sì, la scossa che c'è stata l'altro giorno fortunatamente non ci ha dato grandissime preoccupazioni anche se è chiaro che si ritorna la mente al passato e a quello che è successo. Abbiamo avuto dei problemi con delle impalcature che purtroppo erano già fatiscenti che si sono ulteriormente deteriorati e sono cadute dei pezzi, tant'è che bisogna intervenirci. Dobbiamo rimodulare insieme alla Giunta, al Presidente, un discorso di messa in sicurezza anche di quelle che una volta erano ponteggi e che purtroppo adesso vanno tolti. Per il futuro noi siamo non preoccupati di quello che è stato, però dobbiamo accelerare. Il mio pensiero è sempre quello. Adesso c'è il problema delle scadenze contrattuali delle persone che sono state, che sono al lavoro in protezione civile, va affrontato urgentemente anche questo. Ci stiamo già lavorando, troveremo le migliori soluzioni possibili rispettando quelle che sono poi le nostre possibilità, le nostre economie e quanto necessario. Però il terremoto deve, io spererei, è un augurio che questa sia l'amministrazione che lo chiuda definitivamente. Terremoto, sicurezza e ricostruzione post-sisma, le istituzioni non abbassino la guardia. Questo è il monito del coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, Domenico Piedimonte. Le impalcature in legno e tubi ormai obsoleti e risalenti al 2002 sarebbero dovuti essere provvisori e servire alla tutela delle persone per eventuali altre scosse. Ma invece si è arrivati a una situazione permanente davvero indecente, la denuncia di Piedimonte. Qualche settimana fa, continuato il coordinatore di SEL, si è anche sfiorata la tragedia. Un uomo infatti ha rischiato di essere travolto da una trave, occorre perciò provvedere al più presto a individuare una soluzione sostituendo urgentemente le impalcature a poi concluso. Andiamo ora ad Isernia dove a Palazzo San Francesco il sindaco Luigi Brasiello ha convocato una conferenza stampa augurando ai suoi concittadini un felice e sereno 2014. Il 2013 è stato un anno difficile, ha commentato il sindaco, ma credo che con l'arrivo del nuovo anno ci siano buoni auspici nonostante la crisi. Il sindaco di Sernia Luigi Brasiello ha indetto questa mattina una conferenza stampa per rivolgere presenti in sala gli auguri di un felice anno nuovo. L'anno appena trascorso è stato un anno difficile, con il collasso delle aziende dovuto ad una crisi economica e il problematico periodo sociale e politico messo a dura prova per le famiglie sernine. Sono certo che questi primi sette mesi sono stati mesi difficili, ma con un bilancio positivo. Abbiamo trovato un'amministrazione ferma perché veniva fuori da un anno e mezzo di commissariamento. Abbiamo cercato di fare veramente l'impossibile in una situazione di difficoltà totale. Abbiamo tentato di riguadagnare quel consenso dei cittadini che probabilmente la politica aveva perso negli ultimi tempi. Credo che la cosa sarà ancora molto difficile, però io spero e mi auguro che il 2014 possa rappresentare l'anno della svolta. La crisi morde ancora fortemente, ha inciso fortemente su attività grandi e piccole, ma io mi auguro che si possa intravedere la fine di questa situazione difficile. Qualche piccolo segnale comincia ad arrivare, ci sarà ancora da lavorare tantissimo, ma certamente il fatto di lavorare non mi spaventa, non mi pesa il ruolo che ho in questo momento perché lo faccio con passione e con voglia di fare e credo anche che questa sia la percezione dei nostri cittadini. L'Isernia deve essere assolutamente riqualificata dal punto di vista della vivibilità ed è quello che faremo. Cercheremo di dare una città più a dimensione Duomo, che possa essere più vivibile, che possa rappresentare veramente quella isola diversa da una città che nel tempo si è completamente degradata. Ecco, io credo che in questo senso si possa anche riguadagnare parte della fiducia dei cittadini che hanno perso nei confronti della politica. Poi ovviamente ci sarà da fare tantissimo e puntare su alcune peculiarità. Il primo cittadino ha esposto quali saranno i primi obiettivi da mettere in campo per il nuovo anno, ovvero rivalutare il sito termale dell'acqua solfurea e il museo paleolitico da poco inaugurato. La priorità sia quella di dare ai cittadini di Isernia una vivibilità diversa. In questo senso credo che noi possiamo riguadagnare consenso e quindi fare in modo che la città possa sperare ad un futuro migliore. Credo che però vadano fatti degli interventi urgentissimi. Il primo intervento che abbiamo fatto è stato quello del paleolitico. Immediatamente, tra gennaio e febbraio, partirà un secondo intervento che i cittadini di Isernia si aspettano da anni, che è finalmente, dopo tanto tempo, la riqualificazione della zona dell'acqua solfurea. Credo che questi due elementi, il paleolitico e l'acqua solfurea, possano veramente rappresentare il viatico giusto per il futuro di questa città. Occupiamoci ora del tanto discusso piano di dimensionamento scolastico perché è tornato nuovamente all'attenzione della giunta regionale dopo aver ricevuto solo qualche tempo fa l'ok dall'aula di Palazzo Moffa per l'attuazione. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Cristiano Di Pietro, ha fatto sapere come il riassetto delle dirigenze dei poli scolastici del Molise abbia dovuto subire una necessaria modifica per alcuni errori materiali circa le scuole di Miranda e Rionero Sannitico. Le tre scuole del comune di Miranda sono infatti tornate nell'istituzione del plesso di Carovilli, mentre quelle di Rionero Sannitico sono tornate a far parte del polo scolastico di Colli. E la manifestazione, l'Italia si ferma, continua il suo presidio presso il casello dell'autostrada 14 di Termoli anche a Capodanno per dare, come annunciato già qualche giorno fa, un segnale forte alla politica. Sentiamo. Sarà un Capodanno particolare quello che si apprestano a vivere i manifestanti del movimento. l'Italia si ferma a Termoli. Come annunciato già qualche giorno fa, l'intenzione è quella di dare un segnale forte all'opinione pubblica, festeggiando il Capodanno presso il presidio del casello dell'autostrada 14. In tal senso così si è espresso uno dei contestatori. Cerchiamo di abituarci a questo Capodanno in mezzo alla strada perché con questo governo penso che presto faremo tutti questa fine, tutti in mezzo a una strada. Noi vogliamo coinvolgere un po' tutta l'opinione pubblica, tutti quelli che come noi non accettano questo governo di tasse, questo governo che pensa a gente che viene da fuori nazione e non guarda a quanti si suicidano tutti i giorni. Come un buon padre di famiglia bisognerebbe pensare a queste cose qua, ma questo governo non ne vuole sapere. Noi siamo qui per protestare contro questo e passeremo questo Capodanno qui con la pioggia e con il freddo. Quante persone sarete e come vi state organizzando? Lo zoccolo duro qua sono una trentina di persone, quindi poi speriamo che tutti gli altri termolesi e non che ci vogliono far compagnia possono venire. Noi balleremo qui dalle 10 di stasera fino alle 2, le 3, non lo so, fino a che avremo forza di gridare andatevene a casa. Staremo qui e aspettiamo tutti quanti. Dunque anche l'ultimo dell'anno sarà per il Movimento occasione di far sentire la propria voce, con l'augurio che il prossimo anno le cose cambino celermente. E da Termoli ci spostiamo ora a Campobasso dove è tutto pronto per la 46esima edizione della Marcia Nazionale della Pace. Numerose le tappe e le soste promosse per l'importante evento, così come tantissime sono le persone che hanno deciso di aderire all'invito dell'Arcivescovo di Campobasso Boiano, Giancarlo Bregantini. Sentiamo i dettagli nel servizio. In Molise il 2013 terminerà con la 46esima edizione della Marcia della Pace. A Campobasso, città scelta per l'importante manifestazione divenuta il simbolo della pace per il 2014, è tutto pronto per l'evento. Un'iniziativa che sulla scia della frase scelta da Papa Francesco per celebrare la giornata mondiale della pace, vuole tracciare un importante percorso di riflessione, non solo sul tema della fraternità e dell'accoglienza, ma anche sulla povertà. Pax Christi, CEI, Caritas, Italiana e Azione Cattolica e quattro enti del Comitato Promotore della Marcia, oltre alle istituzioni locali e responsabili dei vari organismi pastorali della diocesi di Campobasso. Una colomba bianca che ad ali spiegate vola sul mondo colorato generando e disegnando un arcobaleno è il logo di questa 46esima edizione della marcia, alla quale sarà presente la croce di Lampedusa, di un metro e mezzo di dimensioni, costruita con le assi delle barche che hanno trasportato i migranti nel mare Nostrum. Realizzata da un falegname di Lampedusa, la croce avrà un profondo significato simbolico, sarà infatti come avere durante la marcia la presenza di chi non ce l'ha fatta, morendo in mare e di chi, pur sopravvivendo, è rimasto prigioniero in Italia. Un programma ricco poi quello della manifestazione che prenderà il via dalla chiesa di San Giuseppe Artigiano, dove ci sarà l'accoglienza dei partecipanti per poi proseguire con una serie di soste. Come prima tappa la marcia si snoderà a lungo via Montesanto, luogo significativo dove sarà avviata la mensa Caritas. Il cammino proseguirà poi verso l'aula magna dell'Università degli Studi del Molise, dove ci saranno una serie di incontri intensi dal tema come educare alla pace nelle scuole. Sosta successiva al carcere di via Cavour, alla quale seguirà la celebrazione eucaristica in cattedrale, presieduta dall'arcivescovo di Campobasso Boiano, Giancarlo Bregantini. Il tutto si concluderà con un momento conviviale in piazza Prefettura. Durante tutta la marcia, come ha ricordato poi lo stesso Bregantini, sarà ricordato Monsignor II Bologna, che si è offerto vittima per salvare Campobasso dalla distruzione della guerra il 10 ottobre 1943. Un invito al momento già raccolto da numerosissime persone, quello del Vescovo, che ha poi invitato tutti coloro che non potranno partecipare all'evento, a porre un lumino sulla propria finestra o sui balconi. Un simbolo concreto della luce della pace, emblema di chi ha la voglia di trasformare un momento dispendioso in un'austera marcia di speranza. E diverse sono le iniziative in programma per la fine dell'anno nel capoluogo molisano. Questo pomeriggio alle 18, nella caratteristica cornice di Piazzetta Palombo, un gruppo molisano allieterà quanti vorranno assistere a canti popolari e maitunate, un antico stornello augurare mutevole nella forma e nel contenuto. Ed è tutto pronto per i festeggiamenti della notte di Capodanno. Nonostante la crisi, moltissime sono le persone che hanno optato per il tradizionale cenone al ristorante dove dopo la mezzanotte non mancheranno le tradizionali lenticchie. Sentiamo. Siamo con Salvatore Edilisio all'hotel Rinascimento di Campobasso. Fervono i preparativi per il cenone di questa sera. Quale sarà l'offerta appunto dedicata ai clienti? Dunque l'offerta è l'aperitivo, un antipasto molto carino fatto dallo chef. due primi, uno di mare e uno di terra, poi abbiamo un secondo di pesce e poi dopo mezzanotte c'è il secondo di carne. Un dolce particolare prima della mezzanotte e poi di nuovo dolci natalisi e spumante fino a mattina presto diciamo. Ecco il cenone di Capodanno è una tradizione che resiste nonostante quello poi che si dice, i tempi non sono dei migliori. Comunque resiste e c'è la voglia di uscire di casa, di passare una serata all'insegna del divertimento. Sì, ringraziando Dio noi quest'anno pensavamo un minor numero di persone invece abbiamo dovuto chiudere già da ieri le prenotazioni, abbiamo superato le 300 persone quindi la sala ne conterrebbe anche di più però per una questione di organizzazione e di far venire meglio la festa diciamo ci siamo fermati. L'agenda risposta perché rispetto agli altri anni abbiamo preferito abbassare i prezzi rimanendo con la qualità costante soprattutto con la scelta quindi anche per i bambini c'è un menù particolare riusciamo a soddisfare un po' tutti perché è una festa diciamo della famiglia e quindi anche il rispetto della Marce della Pace ci sarà un attimo di applauso per la Marce della Pace quindi anche da qui si può collaborare con un segno di pace nel mondo e quindi stare a tavola con la famiglia è l'ideale per questa pace. Luca Mignogna sarà invece lo chef di questo cenone come è un po' il menù, ce ne parla? Il menù varia da carne e pesce abbiamo una serie di antipastini compresi dei finger food un antipasto di terra quindi carne due primi, un secondo di pesce un dolce caldo fatto da noi insieme alla frutta fino a mezzanotte oltre andiamo con zampone il classico del Capodanno allora questo qui è un antipasto aperitivo più che altro freddo abbiamo delle uova di quaglia con del caviale su una patata rossa noisette piccola e del farro, mela verde e peperoni per colorare l'altro invece abbiamo un entrecote crosta di mandorle su una crema di patate e un bauletto di spinaci con carote molto allegro Bene, apriamo ora la pagina dedicata allo sport perché il presidente del Termoli in occasione della conferenza di fine anno ha fatto il punto sul mercato confermando l'arrivo di un difensore centrale di livello per rafforzare ulteriormente la squadra vediamo Nicola Cesare ha l'idea chiara il Termoli deve provare l'assalto all'Ancona perché ha i mezzi per farlo in virtù dei sacrifici che finora la società ha fatto per accontentare le richieste di mister Giacomarro il presidente si è espresso così sul mercato dei giallorossi La squadra sta bene così nel senso che noi al 99% prenderemo un altro difensore importante di categoria superiore o comunque pronto per poter aspirare a vincere il campionato e quindi prendendo un altro difensore pensiamo realmente di aver messo a posto la squadra per quelle che sono le volontà del mister noi non siamo l'Ancona dobbiamo essere una squadra che gioca al calcio ben organizzata e con organizzazione e giocatori importanti perché è vero che sono andati via faccio l'esempio dell'attacco Genchi e De Tommaso però insomma mi sembra che sono arrivati Totino e Palumbo che non mi sembrano proprio gli ultimi della categoria secondo me abbiamo migliorato sia in termini di qualità che di mentalità soprattutto Ancora un giocatore di livello in arrivo quindi alla corte di Giacomarro perché l'Ancona è a portata di mano bisogna solo ripartire come si è terminato l'anno cioè vincendo E continua la campagna Quissi dell'Iserni ha preso Giuseppe Guarnera centro campista classe 93 ex Nisse Potenza che dovrebbe rinforzare la zona nevralgica del campo mancano ancora all'appello un difensore centrale un attaccante in grado di far tirare il fiato a Capitan Panico e Riccardi in uscita invece è colasante per lui già pronto un contratto che lo legherà alla Civitanovese di Mister Iaconi E il 2013 per il Campobasso è stato un anno particolare i Rossoblu hanno prima abbandonato la prestigiosa Lega Pro e poi sono ripartiti umilmente dall'eccellenza dopo il fallimento della società grazie all'impegno dei tifosi Sentiamo L'anno che si sta concludendo per il Campobasso è stato davvero un anno particolare i Lupi nonostante la buona stagione disputata in Lega Pro seconda divisione Girone B sono stati costretti ad abbandonare la categoria per dissesti finanziari il 4 giugno 2013 il presidente Capone ha venduto il 51% della società a un imprenditore vicentino originario di Oratino Giulio Di Palma il nuovo maggiore azionista ha dovuto far fronte a due punti di penalizzazione 7.000 euro di ammende per la violazione del regolamento e 700.000 euro di debiti con l'erario in seguito a tale situazione economica il direttivo della Lega Pro ritene inammissibile la domanda di iscrizione presentata dal Campobasso la cui posizione insieme a quella del Treviso non era sanabile la società ha poi deciso di non ricorrere contro l'esclusione dalla Lega Pro per dissesto economico e la squadra è stata sciolta momenti di apprensione per i tifosi del Campobasso che le hanno provate tutte pur di salvare la società e proprio grazie all'associazione dei tifosi Noi Siamo il Campobasso che viene acquistato il titolo di eccellenza dell'Unione Sportiva Campobasso 1919 che ha sancito la rinascita del club rosso-blu ripartendo però dal campionato regionale di eccellenza campionato in cui la squadra ha chiuso l'anno solare vincendo tutte le partite disputate tra eccellenza e Coppa Italia regionale ben 25 vittorie su 25 partite tra Coppa e campionato eguagliando così tutti i record di categoria la squadra di Farina è pronta per un 2014 ricco di soddisfazioni e intenso come gli ultimi mesi del 2013 con l'augurio che i lupi possano presto tornare a cavalcare palcoscenici di tutto rispetto ma prima un po' di meritato riposo E sarà un San Silvestro all'insegna della corsa quello che vivranno gli appassionati molisani di podismo due principali appuntamenti della giornata che chiuderà quest'oggi l'anno 2013 sul versante dei big le attenzioni saranno puntate su Roma dove andrà in scena l'edizione 2013 della We Run Rome che come già la scorsa edizione vedrà al via il campo chiarese Andrea Lalli altro appuntamento è quello dei 1100 metri della 14esima scalata di San Silvestro che dal castello Pandone di Venafro porterà sino a Conca Casale organizzato dall'Atletica Venafro a culmine dell'evento poi come da tradizione il rinfresco con il brindisi benaugurale per il 2014 Bene questa era la nostra ultima notizia io vi lascio alle previsioni del tempo vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Molise TV e vi auguro buon anno il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso previsioni del tempo per mercoledì 1 gennaio 2014 sul Molise nubi diffuse ma senza fenomeni di rilievo venti deboli o moderati tra sud-est e nord-est su Ionio e Salento da nord-ovest altrove temperature in lieve aumento nei massimi Campobasso minima 5 massima 9 gradi Isernia minima 2 massima 12 gradi Termoli minima 8 massima 13 gradi il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso di Campobasso